E' un nuovo campionato ed io sei che non so mai sto con c'è sono l'interno per me, sono l'interno, sono l'interno, sono l'interno per me e sono l'interno per me, sono l'interno e' premere il play ma è già acceso Vieni qua. Vieni qua. Lasciatevi le cacche e le cacche. Vai! Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua con la sciarpa. Ehi, dammi la tarifia con il Presidente! 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 Ehi, dammi la tarifia! Ehi, dammi la tarifia con il Presidente! 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 Ehi, dammi la tarifia! Ehi, dammi la tarifia con il Presidente! 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 Grazie.